Te l'hai ritenuto segreto. Da quanto tempo stai qui? Mesi. Ho perso il conto. È ancora vuoto. Perché? Come mai? Non sapevo da dove cominciare. E così ti arrotoli in un angolo. Quello che vuolevi. Un po' delle cenere di Frankie. Lo trovo giusto. Se non era con te, stava sempre a parlare di te. A essere sincera, ero gelosa. Mi rendevo conto che... Non era andato là in Iraq per i soldi. C'era andato per stare con te. Dai, non dire cazzate, per favore. Credo che ti amasse. Affanculo, Reggio. Tieni. È stato guardando tra le sue cose. Mi sono resa conto che forse non lo conoscevo. No, Rachel, ti sbagli. Sì che lo conoscevi. Conoscevi la sua parte migliore. Quella senza il fucile in mano. Lo conoscevo.